sono luca frulla amministratore della you go go srl il nostro brand gestisce circa 30 appartamenti nella città di trento centro you go go è un brand che nasce per dare una risposta ai viaggiatori si basa su due grandi promesse due pilastri more comfort e more freedom quindi per dare libertà e spazio ai nostri ospiti il channel manager di room raccoon ci aiuta nel nostro lavoro perché comunica immediatamente con tutti i portali di vendita quindi nel momento in cui arriva una prontazione viene automaticamente scaricata nel gestionale così come se arriva una cancellazione la disponibilità viene immediatamente riaperta su tutti i portali le funzionalità che utilizziamo quotidianamente nel pms è il quadro prontazioni la modifica dei prezzi e anche le statistiche le le statistiche le controlliamo tutti i giorni per andare a vedere una serie di parametri quindi ricavo medio revpar e anche il forecast quindi vediamo il nostro periodo come sta andando secondo questi dati la fatturazione di room raccoon è davvero semplice e intuitiva con un click all'interno della prenotazione è possibile gestire tutto l'invio della fattura al nostro cassetto fiscale avviene in maniera automatica quindi è molto semplice così è davvero molto semplice inviare la fattura stessa all'ospite stesso click basta inserire la mail e la fattura viene inviata direttamente al cliente per il prossimo anno vorremmo cercare di aumentare il numero dei nostri clienti che utilizzano il sistema di pagamento di room raccoon quindi con pagamento online così come mi è stato suggerito room raccoon mi sento di consigliarlo anche ad altri miei colleghi è un gestionale che ci ha davvero aiutato nella nostra operatività ad automatizzare e in tutte le operazioni base del pms assolutamente lo consiglio